Con James Dean arriva sul grande schermo, con tutta la prepotenza del personaggio, il tema del problema giovanile e soprattutto con un linguaggio moderno. Qualche anno prima Salinger aveva scritto il giovane Holden e il neorealismo in Italia poneva con linguaggi e con modi diversi sempre il tema del disagio giovanile. Oggi, a distanza di tanti anni, dopo il periodo dell'impegno politico, del riflusso e poi della globalizzazione di una gioventù che in questo momento si trova massificata e forse anche un po' spaventata, la figura di James Dean e soprattutto il suo volto appare in tutta la sua modernità. Sappiamo della sua tragica fine ed oggi vediamo sul web i ragazzi che fanno cose al limite del suicidio quasi per sfidare loro stessi e sfidare una società che in qualche modo non li capisce. Ecco, in questo senso probabilmente la figura di James Dean, che è ancora moderna e in qualche modo anticipatoria, ha lanciato un messaggio che forse noi avremmo dovuto cogliere prima.